Prosegue la campagna vaccinale anti-covid, seppure a marcia ridotta nel Sannio, dove i ricoveri in ospedale si incrementano e i contagi crescono in città e in provincia. Grande attenzione anche nella zona del centro storico di Benevento, dove si concentra la Movida. Sicuramente il caldo, sicuramente questo rinnovato entusiasmo spinge molti ragazzi, non solo i ragazzi, ad assumere delle condotte meno virtuose. Se molti non hanno la mascherina, se la mettono solo in determinati momenti, quando ancora vi è un obbligo di tenerla. E dunque l'appello a mantenere alta la guardia, poi Marino evidenzia il positivo riscontro ottenuto da parte del prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, alle richieste del comitato, per garantire in zona maggiori controlli. Il prefetto ci ha rassicurato che vi sarà un'attenzione per il centro storico, mediante l'utilizzo di pattuglie a piedi, sia in divisa sia in borghese. Noi auspichiamo che questo suo impegno possa essere eseguito da azioni forti sul territorio. In questi fine settimana abbiamo registrato altri atti di inciviltà, abbiamo registrato ancora dei momenti di tensione tra i giovani. Dobbiamo dare atto che in alcuni vicoli, faccio un esempio via Manciotti, ma anche altri, si creano dei veri e propri parcheggi, quindi anche questo è un problema.